Musica La professora sono quasi 40 anni Sì, i cardavali sono 20 anni fa e ogni anno ne metto fuori uno e praticamente, penso, fino al 2009 o in cantiere altri carnavali C'è la collezione di Aceriale 2004 e i giochi del passato gli anni non si sa si capisce che non è passato Musica Nascosto, mi cerco di prendere il momento più bello che penso per me per fare la mia fotografia Musica 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 Grazie a tutti